C'è stata una fuga di monossido di carbonio nella casa dei vostri genitori. Vostra madre è deceduta a casa e vostro padre è qua in ospedale. Basta. Tutto qua. Vostro padre prima di andarsene ha detto una cosa. Che cosa? Marie, non fare scherzi. Me li dovete far vedere. Meglio di no. Mi dovete far vedere. Come dir battle! Vieni to mensembre! 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 Cos' 실�而 est That's. Sì 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 Noi! Noi!